Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la politica cittadina a bagarre questa mattina a Palazzo Baronale a Torre del Greco. Degenera la discussione in aula nel Consiglio Comunale chiamato ad approvare il bilancio. Un ordine del giorno senza colore politico per sostenere la proposta di legge dell'onorevole Luigi Gallo sul caso De Iulemar. Ne abbiamo parlato con il consigliere pentastellato Vincenzo Salerno. Oggi il ritorno tra i banchi di scuola in tutta Italia. Buona l'affluenza Torre del Greco all'Istituto De Nicola Sasso. Genitori divisi sul ritorno in classe, prevale l'ottimismo ma restano le perplessità. Li abbiamo ascoltati ai microfoni di TV City. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Presidente, lei non solo è legittimo, ma lei ha fatto un altro grado. Qual è la modulazione? 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 E si deve solo mettere in un'altra. E si deve solo mettere in un'altra. Bagarri in Consiglio Comunale a Torre del Greco. Tensione in aula questa mattina. Duro scontro tra il Consigliere Comunale Luigi Caldarola e il Presidente del Consiglio Gaetano Fruglio, con l'ingresso in aula delle Forze dell'Ordine per placare gli animi. Un Consiglio Comunale delicato che all'ordine del giorno vedeva l'approvazione del bilancio, tema motivo delle accese discussioni in aula. Chiesta la presenza dei revisori di bilancio, richiesta non ascoltata dal Presidente Fruglio. Animi accesi sin dall'inizio della seduta, quando Caldarola, Ciavolino e Piccirillo chiedevano il rinvio del Consiglio, richiesta tuttavia disattesa. Dopo le tensioni, i lavori del Consiglio sono ripresi. Non sono mancate le polemiche sul percorso che ha portato all'approvazione del bilancio. Siamo delusi, questo bilancio non ha prospettive di ripresa, non ha ambizione politica. Parole dure, quelle del consigliere pentastellato Vincenzo Salerno. Bisogna alzare la pressione politica sul caso De Julemar. Nasce così un ordine del giorno senza colore politico per dare forza alla proposta di legge presentata dall'onorevole Luigi Gallo per supportare i truffati della De Julemar e inserirli tra i beneficiari del fondo indennizzo risparmiatori. Un crack da 800 milioni di euro che ha messo in ginocchio l'economia della quarta città della Campania, penalizzando 13.000 famiglie torresi. È una ferita che ancora sente la nostra comunità. In questi anni è stato seguito un percorso che ha interessato soprattutto le sfere romane ed è stata un'iter parlamentare, durante il quale noi portavoce territoriali del Movimento 5 Stelle non abbiamo fatto altro che un ruolo di filtro tra i flussi di informazioni in entrata e in uscita tra tutti gli obbligazionisti e le evoluzioni parlamentari. Ora che siamo di fronte a una situazione più che delicata perché è stata presentata una proposta di legge che potrà vedere finalmente indennizzati gli obbligazionisti truffati della De Julemar è il caso di alzare la pressione politica dal momento che a nostro avviso la tematica De Julemar non è una tematica di partito ma è un argomento che interessa tutte le forze politiche perché è una sofferenza per l'intera comunità torrese quindi noi abbiamo suggerito un ordine del giorno quindi non una mozione a firma 5 Stelle ma un ordine del giorno di tutti coloro che condividessero che bisogna incominciare ad alzare la voce così da arrivare sempre più numerosi e compatti in modo che si possa vedere realizzata l'approvazione di questa proposta di legge e finalmente vedere ristorati i nostri truffati concittadini stiamo un attimo cercando di alzare la tensione politica il livello del dibattito in merito in modo che qualsiasi forza politica senza colore, senza appartenenza all'uno o all'altro partito soprattutto in un momento storico in cui a Roma c'è una maggioranza bulgara che porta dentro tutti veda in questa fase così delicata per il ristoro dei truffati la partecipazione è più ampia e più condivisa quindi oggi in Consiglio Comunale perché non è neanche di nostra competenza non si decide nulla e passi importanti in merito non è che siano fatti si sta semplicemente cercando di alzare la tensione politica così da poter sperare nel più ampio numero di voti favorevoli alla proposta di legge presentata dall'On. Gallo in Italia oggi è tornata a suonare la campanella per gli alunni della scuola dell'infanzia degli elementari e per chi frequenta la prima media il piano del governo infatti è quello di far rientrare gli studenti nelle aule gradualmente per gli altri gradi ed ordine invece continuerà la didattica a distanza in attesa di nuove disposizioni governative aule aperte anche nella regione Campania dove la preoccupazione dei genitori si è alternata alla soddisfazione di vedere i propri figli entrare nelle scuole a tranquillizzare le famiglie e anche il piano vaccinale che è coinvolto in via prioritaria tutto il personale scolastico ma non mancano le preoccupazioni su eventuali focolai che potrebbero innescarsi tra i più giovani considero legittime le preoccupazioni di alcuni genitori al fermo il primo cittadino del comune di Ercolano Ciro Buonaiuto la riapertura delle scuole continua con il ritorno alla didattica in presenza fino alla prima media è anche un segnale di ripartenza che dobbiamo accogliere con favore il sindaco Buonaiuto inoltre è intervenuto sulla questione vaccini sul quale il governatore De Luca ha proposto le somministrazioni in via prioritaria per gli operatori del comparto turistico di Capri oltre all'isola afferma non mi hanno dimenticate altre diette turistiche della nostra regione come Ercolano che grazie all'indotto turistico era riuscito a mettersi alle spalle un passato fatto di disagio e criminalità ma penso anche a Pompei alla penisola sorrentina e alla costiera amalfitana tanto per fare qualche esempio gli istituti scolastici afferma l'assessore alla pubblica istruzione di tutta l'annunziata Anna Vitiello metteranno in campo tutte le misure necessarie a garantire il sereno svolgimento delle attività nell'osservanza delle misure previste per il contenimento del contagio da Covid-19 intanto nella giornata di oggi il Comune Oprontino ha fatto registrare un solo contagio ed un solo guarito nelle ultime 24 ore segnale che la curva è in calo dopo l'allarme delle settimane scorse stesso discorso anche per il Comune di Torre del Greco nella città corallina sono state registrate 31 nuove guarigioni e certificate 29 case di positività di cui due ripositivizzati a livello regionale invece il rapporto da un po' di positivi resta ancora alto i positivi registrati ieri sono 846 su 6.505 con un tasso 14% dato che unito agli altri condanna ancora la campagna alla zona russa in altesa del prossimo monitoraggio da parte della cabina di regia del governo e del comitato tecnico scientifico una grande festa per alunni e docenti dopo lunghi mesi di didattica a distanza oggi ritorno in sicurezza tra i banchi di scuola per gli studenti fino alla prima media la scuola deve riprendere deve riprendere in sicurezza noi abbiamo attuato tutti i protocolli che erano già in vigore dal mese di gennaio che c'erano stati già imposti giustamente dalle autorità sanitarie locali abbiamo ripreso fino alla prima media speriamo che le autorità governative possano riaprire anche la presenza per le altre classi della scuola media e poter così riprendere perché ne abbiamo voglia tutti soprattutto i docenti che all'80% del nostro istituto si sono vaccinati e soprattutto gli alunni che hanno patito purtroppo hanno sofferto in questo periodo di didattica a distanza totale finalmente con grande orgoglio riprendiamo riprendiamo perché ci sono tutte le misure e ci sono anche tutti i numeri per poter riprendere al meglio possiamo dunque rassicurare le famiglie e lanciare anche un messaggio di ottimismo e di speranza sicuramente sì sicuramente sì perché i tempi ci daranno ragione i numeri ci daranno ragione noi potremo così riprendere al meglio e almeno in queste ultime pochissime settimane che ci rimangono per dare lo slancio finale e poter così sperare in meglio per il mese di settembre buona l'affluenza all'istituto di Nicola Sasso di Torre del Greco dove insegnanti alunni e famiglie guardano con ottimismo ai mesi che verranno con l'auspicio di lasciarsi alle spalle le difficoltà della didattica a distanza non solo dal punto di vista formativo ed educativo ma anche in termini di interazione e socializzazione per i ragazzi si sono presentati tutti quanti in orario felicissimi appunto di rientrare a scuola contentissimi e stiamo comunque onesti l'affluenza è stata abbastanza importante perché la maggior parte infatti degli alunni sono rientrati ovviamente sappiamo che ci sono appunto dei turni e quindi ovviamente chi doveva appunto rispettare il turno è rimasto quindi a casa però siamo tutti molto contenti che comunque insomma i bambini sono rientrati e quindi con le loro insegnanti felicissimi infatti finalmente di vedere i propri bambini perché noi così infatti li chiamiamo alla primaria e siamo contenti anche perché riusciamo praticamente a portare avanti anche questo progetto non soltanto didattico ma anche di socializzazione che come appunto sappiamo soprattutto per i bambini di prima e seconda elementare è molto importante perché ovviamente la socializzazione è la base di tutto e quindi insomma anche attraverso questo si può portare avanti un processo appunto didattico Quali sono state le difficoltà di questi mesi della didattica a distanza soprattutto per bambini così piccoli? Allora i problemi sono stati tanti prima di tutto perché abbiamo purtroppo dovuto anche tra virgolette delegare ovviamente i genitori nell'essere appunto presenti vicino a questi bambini soprattutto davanti a un video quindi possiamo dire uno strumento tecnologico con i bambini con i quali appunto i bambini non hanno una grande attitudine quindi non sono tanto avvezzi soprattutto per quanto è da sempre i bambini di prima e seconda elementare però comunque insomma ce l'abbiamo fatta ci siamo riusciti e finalmente diciamo adesso possiamo cogliere i frutti di quello che abbiamo seminato Quindi oggi finalmente si vede la luce fuori dal tunnel Sì una splendida luce come possiamo anche vedere oggi e speriamo comunque insomma di continuare così su questo versante fino alla fine dell'anno perché ce l'auguriamo veramente tutti in quanto i bambini soprattutto sono rimasti abbastanza voglio utilizzare questo termine forse traumatizzati da questo periodo appunto di pandemia e quindi finalmente abbiamo ritrovato questa luce quindi siamo fortunatamente rinati con la primavera giornata di ritorno a scuola per gli alunni fino alla prima media una decisione accolta positivamente da molti genitori ma non mancano gli scettici sulla ripresa delle attività in presenza a poche settimane dalla fine dell'anno scolastico questa mattina le telecamere di TV City hanno raccolto le opinioni dei cittadini torresi oggi si ritorna tra i banchi quali sono le sue sensazioni dal genitore? No, diciamo che è un fatto positivo purché si resti sempre in sicurezza e rispettando le regole certo che i bambini a scuola è tutt'altra cosa perché non parlo per mia figlia non ce la faceva più con la dad ha bisogno proprio del rapporto con i professori con gli amici ha bisogno proprio quel fatto di interloquire quella cosa che manca con la dad era il momento perché i bambini stavano male ed era giusto abbiamo fatto un anno intero in dad e quindi i bambini devono riprendere la loro vita con tutte le attenzioni e adesso gli insegnanti sono vaccinati e quindi dovremmo stare un po' più tranquilli dobbiamo soltanto continuare a rispettarci perché comunque mandare i figli a scuola poi dopodiché non trovare i bambini in mezzo alla strada così a perdere tempo questo è il nostro augurio più grande io vedo troppo di senso fuori dalle scuole non dentro anche perché i contagi le scuole sono state chiuse fino adesso i contagi non sono diminuiti quindi non diamo la colpa alla scuola sono molto d'accordo con la didattica in presenza anche perché a casa era un attimino un po' più complicato speriamo che i bambini la prendano bene insomma questo nuovo ritorno a scuola e che sia insomma in maniera definitiva fino alla fine dell'anno arrivati a questo punto diciamo dell'anno scolastico sembra una cosa un po' così far ritornare i bambini a scuola togliendo i sabati togliendo le domeniche il 25 e feste il primo maggio è festa rimane quel mesetto più o meno di scuola quindi non so fino a che punto sia proprio necessario questo rientro a scuola anche se io sono sempre favorevole e suo figlio invece o sua figlia era contenta di ritornare tra i banchi? diciamo un 50% un 50% perché comunque per loro stare a casa fare la video lezione finiscono e già sono a casa bambino di 8 anni sicuramente è felice però dall'altro lato è anche felice di tornare a scuola perché comunque magari non lo dice ma vuole vedere gli amici anche le maestre sì oggi si ritorna tra i banchi quali sono le sue sensazioni da genitore? ritornare a scuola per così quasi è finita è solo una presa in giro voglio dire questi bambini ormai hanno perso non socializzano più non riescono più a stare insieme al contatto gli altri bambini quindi comunque è stata per penso che per tanti bambini è stata una tragedia cioè è stato un dramma proprio restare chiusi in casa tanto tempo è fiducioso sul fatto che si possa terminare l'anno scolastico in presenza? poco pochissimo fiducioso visto che comunque i casi ci sono di tornare a aprire la scuola così per secondo me adesso riaprono poi richiudono poi riaprono poi richiudono questi bambini non sanno più nemmeno l'ora sono confusi contento per loro sinceramente non vedevo l'ora la priorità è l'istruzione dei bambini quindi sono felice è fiducioso sul fatto che si possa concludere l'anno scolastico in presenza? non lo so sinceramente vediamo in questi giorni spero di sì che possano continuare spera che tutti gli alunni quindi da oggi si riprende fino alla prima media si augura che anche dalla seconda media in poi si possa rientrare a scuola quale augurio può dare a questi ragazzi che sono ancora in didattica a distanza? ma certamente l'istruzione è fondamentale per questi ragazzi quindi mi auguro che tutti quanti possono riprendere a studiare il loro percorso quindi è importante che i bambini vadano a scuola e con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo che potete contattare la nostra redazione per info e segnalazioni all'email redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani A presto